La sperimentazione del plasma in chiave anti-covid è iniziata in diverse regioni, tra queste sono incluse anche le marche che hanno aderito al progetto. Al momento la fase di sperimentazione marchigiana è ferma in quanto non sono stati definiti protocolli. Il comitato etico formato da personale sanitario che tutela e garantisce pubblicamente i diritti e la sicurezza dei soggetti partecipanti a questa sperimentazione deve ancora insediarsi. Inoltre non sono stati ancora individuati i tecnici di laboratorio che si occuperanno della complessa procedura. Intanto nelle sedi a visine di Pesaro e anche di Fano sono diversi potenziali donatori di plasma iperimmune che chiedono la possibilità di dare il proprio contributo nel tentativo di salvare altre vite. Questo plasma oggi deriva da pazienti donatori, nel senso che sono state persone che hanno avuto il virus, hanno immagazzinato gli anticorpi e ora lo possono donare. Nel senso che tramite questa plasma, in questo progetto sperimentale, si hanno avuto tantissimi casi affinché questa donazione possa guarire le persone affette dal covid. Il plasma, appunto questa spettacolare, questa magnifica sacca gialla, porta delle immunoglobuline e serve appunto per aiutare tramite queste immunoglobuline a colpire questa malattia creando degli anticorpi. Ancora l'aspetto scientifico quindi non è ancora chiaro, quindi si parla appunto di fase sperimentale proprio perché questi anticorpi non sono stati perfettamente individuati. E siamo in attesa del protocollo dal DIRMT, ovvero dalle linee guida, in modo tale che questi 40 donatori in tutta la nostra provincia possono donare il plasma. Logicamente devono essere certi di essere stati colpiti dal virus. Nelle fasi iniziali ci è stato detto che sicuramente saranno escluse tutte le donne che hanno avuto una gravidanza, portata a termine o meno. Comunque sia per l'ufficialità dobbiamo aspettare le linee guida della regione, tuttavia il nostro presidente nazionale ha detto di stare talmente cauti e aspettare quelli che saranno poi gli aspetti definitivi appunto decisi da tutto quello che deriva dal centro nazionale sangue, che è l'organismo superiore per quanto riguarda la donazione. In attesa delle linee guida, la sede a Visina di Fano è tornata pienamente operativa per le donazioni e le adesioni dei nuovi soci. Dal prima settimana di maggio oggi è ritornata alla piena funzione. Siccome vedete alle nostre spalle c'è il cartello che richiama la donazione del sangue, quindi è un cartello segnalettico molto importante, è un'entrata esclusiva, quindi donatori state tranquilli perché chi viene a donare ha un'entrata privilegiata.